erdo che rifletteva su come stavano le faccende cado sugli spini della vita sanguino e poi cado sugli spini della vita sanguino e dopo mi faccio portare a letto mi prendo una breve vacanza ma dopo pochissimo tempo ricado su quegli stessi spini compiacendomi del dolore o soffrendo di gioia e vattela pesca qual è la combinazione di queste cose che cosa c'è di buono che bene duraturo c'è in me non c'è dunque altro fra la nascita e la morte che quello che riesco a tirar fuori da questa perversità solo un bilancio attivo di emozioni disordinate niente libertà solamente impulsi e allora tutto il bene che ha nel cuore non significa niente dunque è solo una presa in giro una falsa speranza che fa provare a un uomo l'illusione del valore così lui va avanti e continua a battersi ma questo bene non è fasullo io lo so che non è fasullo lo giuro